Amici soldatini bentornati su Fortnite in casa Oggi ragazzi sempre in compagno del buon Marco Ci sfideremo ad una sfida un po' vecchio stile Per provare a riportare in auge il buon Thompson Il buon tamburo L'arma migliore che abbiano tolto su Fortnite Io sono molto triste, sono in lutto Ragazzi oggi oltre a fare questo abbiamo cambiato anche le postazioni di spawn Quindi io sono da Marco e lui è da me Quindi io non saprò il suo chest root E io non saprò il mio Quindi non saprò in modo da dove partire e andare a prendere le chest Vi chiedo subito un pollicione in su per questo video E direi che possiamo iniziare subito 4 minuti a partire da adesso Aspetta, aspetta, partire da adesso Ok è partito, è partito, è partito È partito, è partito Chi siamo? Vediamo chi vincerà Non so se la scoreboard è già attiva Io vado su pinnacoli divanenti Perché io vedo sempre che vai verso di qua È bellissima pinnacoli, mio amore Probabilmente avrai qualcosa Qua c'è già una chest epica Ok E c'è già lo scar Bravo Marco che c'è le chest belle vicine 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 Cosa fare? Io almeno riconosco il mio root Anche qua lo scar Hai già beccato il mio scarino Ma tu non c'hai le chest leggendarie Scusami Sono belle nascoste le mie chest leggendarie Perché io e Arti critichiamo ogni volta È un casino Ma sì? Ma qua ci sono tipo 60 chest verdi O sbaglio? Eh perché io ero il youtuber bene Come si fa a prendere questa qua? Ok l'ho aperta Oh ma c'è una mitrolletta verde Non l'avevamo usata una mitrolletta verde Top 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 Ricordo che dobbiamo fare almeno Marco 3 kill con il nostro fantastico Ah io il Thompson l'ho sempre usato Quindi guarda per me Il Thompson è topissimo Sai che mi manca già su Fortnite Ti giuro mi manca veramente tanto Era la mia arma preferita Ma ho tanto un polmone All'inizio non era così forte come lo era alla fine No no non è vero Io l'ho sempre propsato il Thompson Siete voi che mi avete sempre detto No non è un'arma forte di qua di là E invece io Io ho sempre detto È un pochino imprecisa Effettivamente era imprecisa Però nessuno la usava come mitraglietta Alla fine tutti abbiamo usato la mitraglietta E abbiamo detto Ma cacchio ma Allora il Thompson è veramente forte Nuova chest leggendaria trovata Ops C'è da dire una cosa Che il Thompson Marco Probabilmente lo rimetteranno Ti do questa news Ti dico anche il perché Ti dico anche il perché Perché praticamente è stata messa in magazzino A differenza tipo della revolver Che è stata eliminata dal game A quanto pare Non ho capito bene La nostra fantastica Fantasticerim Fantasticissima Thompson L'hanno tenuta in magazzino Il che vuol dire che probabilmente La rimetteranno in un futuro giorno Interessante Questo è interessante Io lo spero perché Mi manca Comunque l'arma nuova è fica Cioè ci sta l'arma nuova Mi piace veramente molto La silenziata La silenziata è incredibilmente forte È incredibilmente forte Secondo voi Qual è il meglio Ditecela nei commenti È meglio secondo voi Il Thompson O ad aver aggiunto Una mitraglietta Cioè in realtà no Un fucile d'assalto Lo scar Silenziato Ho trovato una nuova arma È la UG Ho trovato intanto Io nella cesta leggendaria Quanta roba Il Vector Il Vector Sai che Quasi quanti lo lascia Io ce l'ho doppio il Vector Eh anch'io Infatti l'ho lasciato No vabbè Preferisco la mitraglietta blu Se devo dirti la mia La mitraglietta blu Secondo me è un botto più forte Sì 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 La mitraglietta blu La preferisco Vediamo se riesco ad andare qua sopra Ragazzi ce l'ho fatta Assurdo Wow 37.000 d'oro E ci manca ancora un bel minutino Per gareggiare Sono Sono carico Io sono veramente molto carico Tu sei carico Allora io non ho mai avuto Questi altri scudini Tutta la mia vita Neanch'io ti giuro Ma perché probabilmente Stiamo facendo un loot A caso Di solito noi abbiamo Il nostro chestnut normale E ci basiamo solo su quello Non è che andiamo in giro A vedere il resto E questa cosa ci ha portato fortuna Anche perché io ho Tre mitragliette blu Ah ma qua c'è un'altra Cesta leggendaria Ah ma questa cosa è molto interessante Quale? Eh non te lo dico dove sono Non so io dove sono le chest Devo capire quale hai preso Questo mi piace molto Qua c'è qualcosa di buono Però non riesco da Non posso aprirlo Mi volete dire Ok Mettiamo i vector Perché tanto sono inutili Io quasi quasi ti direi Mancano 10 secondi Preparati Perché si inizia Stavolta iniziano su Tanto i fan dicono sempre Eh ma lasciate un po' di tempo Troppo Avete ragione Avete ragione su sta cosa Lasciamo troppo tempo Al caso Un secondo È finito Da qui ragazzi Ho deciso di lasciare il video Completamente uncut Per il semplice motivo Che ci sono state delle emozioni incredibili Dei momenti di silenzio Che secondo me Vale veramente la pena vedere Fatemi sapere se vi piacciono i commenti Se ve lo lascio anche la prossima volta Vai col video È finita È finita È iniziata È iniziata Si può iniziare Eh sì Si può iniziare Io sono già senza vita però Dove sei tu Buon male Eh io diciamo che sono molto vicino A pinnacoli divanenti Ok Io ho iniziato E mi sistemo le armi Ok facciamo così Mi metto questo Guarda Quasi quasi Ti dirò Non mi tengo troppe Troppe cose vicino a me Voglio tenere più Più mitragliette Più cose del genere Per cercare di portarmi a casa La vittoria E tu mi vedi? No io non vedo nessuno Per ora mate Eh siamo solo di te Non so se lo sapevi Ah seriamente? Gli altri dove sono? È vero Boom Oddio Secondo me sei molto vicino a me E non me ne sto accorgendo Ma io in realtà non ti vedo io Aspetta che sto facendo un attimo Refull di menedoro Ne ho solamente uno stack adesso eh Io ne ho 44 Ok Allora Ok io adesso posso muovermi Allora Io forse ti vedo sai Dove sei? Senti i miei spari? No Come no? Cacchio Cacchio sei fa Non lo so neanche io dove sono È che Non mi faccio andare indietro Ah Attenzione Lo scar Arriva Vieni qua Vieni qua Non ce l'ho fatta Purtroppo Ho sbagliato io No Sono spawnato sopra Non mi ha messo Non mi ha messo lo spawn Eh mi dispiace Che qua mi si è tolta pure la scena Aspetta ragazzi Torno subito Tac Purtroppo Purtroppo c'ho OBS Fatto a A modi streamer A modi streamer Quindi se c'è un pulsante Ogni tanto mi fa sta cosa Fatemi andare a mettere il mio spawn point Ma è venuto fuori ma da marci uno? Sì Io purtroppo non lo vedo C'ho la canon davanti Sì sì Ok Ok E ci mettiamo qua No aspetta Ok Spawn point Perfetto Ci sono Ci sono Ci sono Dove sei? Quando vuoi Quando vuoi che ti apro la testolina in due Stai attento però Da l'è la cadrega Da l'è la cadrega Dove sei? Mi sto muovendo Dove sei? Non lo so Ti faccio un attimo capire dove sono Ti ricordo che le kill devi farle anche di SMG Sì sì Non ti preoccupare Aspetta che c'è una nuova arma silenziata Urca Ehi Ehi Ti ho preso Quanto mi hai tolto Mi hai tolto tutta la vita Ehi Marcellino Ma cazzo sto morendo Calma Marcellino Marcellino Ciao No Con l'SMG E te l'ho fatta Col Thompson Eh sì Il tamburello è veramente fortino Sto tamburello Ecco Dovina chi si era dimenticato anche lui Lo spawn point Ma forse Marco Non io No Tu dici Il maggiordomo Eh esatto Il maggiordomo Dove sei? È sempre colpa del maggiordomo Non ci sono Ho acquittato Sento i tuoi spari Ti ho ucciso? Assolutamente no Eh ma tu sei solo lo scar Che sbatta Io non uso lo scar È che ti esce fuori lo scar È che in realtà uso altre armi E poi Capito Eh Eh Dove sei Flam? Eh sai che ho la mia zona preferita Io Aspetta che mangio un pochino Un pochino Uh la la No Mi sono incartato Mi sono incartato Ehi Ma perché non muori? Tu non si sa sta cosa Perché utilizzo la tecnica di Fortnite Muoversi a caso E funziona sempre 3 a 1 3 a 1 Mannagina Mannagina Via 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 Bisogna rifarmi la vita Via 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 Scappa È andato È andato Sento i rumori Sento i rumori Della morte No 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 Tu no Cioè tu no Io prendo danno Lui no Cioè è incredibile sta cosa Via via Bisogna scappare Marco Bisogna scappare E con molta Calma leggiadria Anche farlo Oh cacchio Questa ciascola L'ho già presa Allora Mangiamo Mangiamo No Da dove? E tu mi stupendo Il nome Aspetta me ne vado Tranquillo Vattene Se ne vada Dottore Ma da dove mi hai preso? È da dietro Adesso ti posso prendere però Tra l'altro Puoi fare quello che vuoi adesso Guarda Bum 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 Dove sei? No 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 Vinco io Avevo mezzo cuore Quanto ti ho lasciato? Vediamo Mi hai lasciato solo Vettato solo due cuori e mezzo Ma come è possibile Che tu fai Ma tu hai l'SMAG normale Scusa Cioè il Thompson normale Thompson normale Fai i colpi normali A parte che non mi hai ucciso No C'è un lama che mi sta No con l'Auge C'è un lama che mi sta sputando Marco comunque Zero kill di Thompson No una ne ho fatta Oggi sono troppo on fire Oddio È l'ultima 5 a 2 Secondo me adesso Marci si mette in modalità Super mega Io Oddio Doveri farmi Io te ne ho fatte solo due di Thompson Giusto? Sì 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 Aspetta ci dovrebbe essere scritto No mitraietta blu Devo fartene due di Thompson Ma tu ne hai fatte Una di Thompson E basta Una Due ne ho fatte adesso Con quella di adesso Ne ho fatte due Eh sì È vero Allora aspetta che devo rifarmi Con un po' di vita qua Uno scudino No male Ah lo scudino Dove sei? Marmi Sento spari Sento spari Ah eccola Urca No E mi ha tolto metà vita Ma cosa? DAT SHOT Cacchio Ma dove mi hai preso? È lontanissimo Eh sì Allora 5-3 Gestiamocela con molta calma E fiducia Allora Io lancio un po' di colpi Di avvertimento Metto in caso Che tu non avrai capito Chi è il campioncino qua Ho finito anche quest'arma Intanto Dove cacchio sei Non ti sento Non ti vedo Non ti sento Non ti vedo Io ti sento Bello Bello In hype Bello attento Sento spari Guardalo Che si rifugia Nei suoi nascondili Marci Ti ho visto Ti ho visto Ti ho visto Marci Ti ho visto È inutile che Fai finta di scappare Perché ti venga a prendere Dal lato Marci Ciao No Guardatelo Come sta Tento Come sta Clacciando Madonna Che stavo facendo Orca due Allora Siccome qua dentro Ci sono altre mele d'oro No Le rubate tutte Qua Un'altra mele d'oro Qua Mele d'oro Mele mele d'oro Mele d'oro No mele d'oro Qua dentro Zero Le rubate tutte quante Dove sei Io sto cercando Mele d'oro Questo caccia verde Che attacca Tanta roba Il caccia Mp5 Non lo voglio Dove sei te Allora Non ti vedo Ho visto Un rampino No Da dietro No C'ho un cuore Via 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 Devo mangiare Molto Molto clutching Questa cosa Mamma mia Raga Che hype Che Che attesa Io amo Il fucile Senza Super bellissimo E mi sono Oddio Mi sono Basta Ah ok Ho capito il perché Vediamoci una pozzetta Mele d'oro Oddio Guardalo come scappa Ma no Come la stai Clacciando Zio Eh zio Cosa devo fare Poi io sono bravo Perché devo per forza Fare di smg Anche tu devi farla Solo di smg Se lo ricordo Io ti faccio anche Un po' di danno Oddio Via Via No Ok 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 Calma No no Dove recuperare vita Dove recuperare vita Cricchiamo Ok Urca No Com'è che non muori Attenzione Raga Il punto più sofferto Che abbia mai vissuto Porca 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 Oddio santo Oggi Ho due cuori Aiuto 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 Ok Oh cacchio Oh cacchio No no Dove ricaricare No Dove ricaricare Adesso Ma ci non parla Ragazzi Questo secondo è il punto Più assurdo Che abbiamo mai fatto Su Forte Incafissi Allora Vediamo Dove si è andato Solo che l'smg è proprio No Vincoglio 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 Ma non muoi No Però raga Posso dirla Non morivi Tre cuori Tre cuori Questo è stato veramente Una bella Un portretto in casa Questa è un cut Lasciamo Perché non si può Lasciarla Che hype Speriamo che vi sia piaciuta Niente Ciao ragazzi Niente Sì